la relazione psicoterapica è certamente uno di quegli ambiti in cui gli affetti e i sentimenti giocano un ruolo di primo piano e può succedere a volte di vivere una relazione talmente problematica che scava un solco di dolore nel paziente il quale da solo non riesce a dare un senso a ciò che accade la bruciante intensità di certe emozioni ripropone ciò che la persona ha vissuto all'alba della sua esistenza quando da bambino ha cercato un contenitore capace di accogliere e dare un nome al magma ancora in forme dei suoi sentimenti non è semplice vivere queste emozioni violente senza reprimerle e senza esserne sovrastati del resto cos'è il disagio psichico se non la cristallizzazione di una relazione inadeguata che ostacola la possibilità dell'individuo di realizzarsi e di crescere la terapia psicologica si pone infatti l'obiettivo di ritornare a quelle fasi precoci dell'esistenza in cui lo sviluppo del paziente si è arrestato ora il presupposto di questo ritorno nel passato è che la persona si fidi del terapeuta naturalmente anche il terapeuta è portatore della sua realtà interiore e dei suoi complessi che non sono mai del tutto assenti dunque può succedere e a dire il vero succede raramente che il terapeuta si trovi in estrema difficoltà con un dato paziente per cui è giocato da alcune parti di sé che non ha del tutto analizzato e per questo motivo rischia di essere manipolante verso il paziente certamente questa del terapeuta è una forma di manipolazione non del tutto consapevole e nasce da una vecchia ferita che rischia di contagiare il rapporto terapeutico e quindi rischia di intaccare la fiducia del paziente ci sono molti modi in cui la ferita dolente del terapeuta si proietta in modo inquietante nel rapporto psicoterapico se da un lato il terapeuta è abile ad intuire i segreti moti dell'animo del suo paziente per poi rispecchiarlo empaticamente è anche vero che non sempre riesce a fare questo con se stesso ed è da tale carenza che nasce nel terapeuta il bisogno di un determinato paziente in grado di decodificare ciò che lui non vede in se stesso cosa succede a questo punto succede che il terapeuta può non rendersi conto di rispondere alla richiesta d'affetto formulata dal paziente con la propria inconscia domanda d'affetto questa situazione si verifica in maniera più destabilizzante quando il paziente il terapeuta sono di sesso opposto pertanto in queste situazioni il terapeuta rischia di sedurre inconsapevolmente la paziente per ottenere un tipo di affetto che non è rivolto al ruolo che egli riveste ma all'individuo dolente che si cela dietro questo ruolo perché il terapeuta vorrebbe inconsciamente questo per entrare in contatto con la propria infanzia ferita nel tentativo di sanare definitivamente quella ferita ancora dolente in questo modo però il terapeuta finisce per chiedere alla paziente proprio ciò per cui lei è venuta in terapia perciò c'è un rischio altissimo di tradire la fiducia della persona che è lì per sanare le sue ferite quello del terapeuta può essere definito in questi casi come un dare inconsciamente mirato cioè un dare nella segreta speranza di ricevere quindi nella speranza di essere tra virgolette curato dalla paziente è un'aspettativa inconscia questa del terapeuta un bisogno che elegge la paziente a propria salvatrice non diversamente di come faccia la stessa paziente nei confronti del terapeuta infatti anche la paziente ha questo stesso desiderio ora l'irrompere di queste potenti emozioni complementari rischia di rompere il contenitore analitico del setting succede raramente ma può succedere quello che si può fare in questi casi è assumersi il peso dell'esperienza e tentare di leggerla come momento importante della storia di ognuno un momento dotato di un senso particolare e profondo da accogliere nella sua paradigmaticità andando a dare un significato al dispiegarsi di emozioni possenti che con il loro irrompere scardinano il setting analitico contaminando lo spazio simbolico con il piano della realtà la psiche per evolversi ha bisogno di riconoscersi su un piano simbolico che è un luogo senza confini come lo sono tutti i sogni impossibili alimentati da quel bambino che è dentro di noi di cosa sogniamo noi sogniamo di essere amati sogniamo un amore totale assoluto che cancella il dolore perciò in ogni percorso psicoterapico le aspettative di entrambi i partecipanti si intrecciano i loro bisogni in una miscela di sofferenze di desiderio rendendo a volte difficile il cammino di crescita del paziente che è in cerca del senso nascosto tra le pieghe nascoste di quell'incontro l'incontro un vero incontro non avviene solo in un preciso momento della vita ma è da sempre preparato negli anfratti dell'anima esiste come esiste il dolore che conduce la persona in terapia immersa nei suoi pensieri la persona arriva immersa nei suoi sogni nelle sue emozioni portando con sé la tenue speranza che la confusione si diradi e che il suo essere nel mondo trovi finalmente un senso nell'incedere titubante dei suoi passi il paziente spera che la sua sofferenza venga accettata e trasformata ad un certo punto del percorso esiste solo quell'incontro una data e un'ora fissata su menta lettere e numeri che hanno il sapore di una formula magica il segnale dell'incantesimo che avvolgerà la persona e la aiuterà a districare quella massa di emozioni aggrovigliate in fondo alla sua anima la psicoterapia rappresenta una promessa la promessa che il buio si diraderà una volta per tutte e dall'oscuro passato nascerà una nuova persona il paziente è lì con il suo velo di indicibile tristezza che si coglie nel suo sguardo stanco stanco di una vita senza senso quello che tutti vedono è una maschera una maschera di finta allegria ma in realtà il paziente culla un sogno di rinascita e per rinnovarsi deve dialogare con la sua anima a questo serve la psicoterapia a ritrovare il bambino o la bambina felice che forse da qualche parte è ancora vivo nella psiche e questo il desiderio ingenuo che nega la tragicità dell'esistere è il desiderio del nostro bambino interiore che rende possibile il riscatto dal male quindi la cura della ferita per riacquistare un sorriso di speranza ormai la persona sofferente ha rotto i ponti con tutti dietro di lei c'è solo una lunga distesa di terra bruciata e lì da noi con il suo con il suo vuoto con la sua angoscia e il senso di morte ma non conosce il vero volto di questo male che la attanaglia in quanto è un volto indecifrabile non a caso i sogni che fa sono violenti narrano di assassini di furti di sopraffazioni e la persona ha bisogno di trovare la chiave per capire e dare un senso a questa sofferenza che avvelene il suo vivere rendendo la straniera a se stessa per fare questo si deve affidare fidarsi è una sensazione rassicurante e inquietante al tempo stesso perché ambigua infatti la fiducia nasce dall'inconscio che è un luogo dove gli opposti convergono fidarsi di qualcuno significa consegnarsi e vivere quasi una situazione di prigionia con la speranza di essere liberati da un nemico che cerca anche di uccidersi queste dinamiche le ritroviamo nelle nei sogni dei nostri pazienti che si rivolgono portando sogni che racchiudono ossessioni incomprensioni speranze l'ostentata allegria le false sicurezze in sostanza i sogni raffigurano il grido d'aiuto terapeuta e paziente dialogano si parlano ed entrano nel turbamento del silenzio accettando la sfida dell'incontro l'incontro stesso è una promessa di comprensione e di nutrimento ogni incontro è una promessa d'amore e in questo caso soprattutto l'incontro di due fanciulli che esplorano la loro infanzia facendo capolino dietro i loro visi da adulti e riconoscendosi l'un l'altro in questo confronto si cerca di essere sinceri l'aiuto psicologico esige l'essere sinceri ma è difficile esserlo soprattutto per chi è stato più volte tradito dalla vita allora è importante che il tono di voce e lo sguardo del terapeuta siano il più possibile rassicuranti per far sì che il paziente si lascia accarezzare dal suono di una promessa nascosta dietro a quel tono di voce celata nel modo di guardare e di rivolgersi a lui ha bisogno di credere in noi perché ha bisogno di iniziare a vivere una vita che non conosce ancora il terapeuta ha il delicato compito di alzare il vero il velo oscuro da cui è ammantato il dolore questa è la promessa del terapeuta un compito difficile che in realtà riguarda entrambi anche se a livelli diversi terapeuta e paziente si specchiano uno nell'altro e entrambi hanno ferite nascoste e questo stesso dolore li fa riconoscere in una miscela di forza e di dolcezza in un reciproco desiderio di aiutarsi c'è qualcosa di molto fragile in questo è un'emozione perturbante perché ci svela a noi stessi mostrandoci un vuoto pronto ad accogliere l'altro una lacuna che può essere colmata e qui sorge una domanda è giusto che il terapeuta permetta che il paziente colmi le sue carenze se il terapeuta si abbandonasse a questo desiderio forse non potrebbe più aiutare il paziente deve rinunciare il suo compito è rinchiuso in questa rinuncia ma può usare il suo desiderio per incanalarlo nella direzione della guarigione del paziente il rituale della parola inizia a fare il suo corso va avanti nel suo disvelare l'intimità del paziente ci si addentra nei territori dell'anima in quello spazio vuoto e caldo che come un utero ci consente di formarci come individui nuovi il rito della terapia prosegue ci si interroga insieme ad un altro senza trovare risposte ma restando l'uno accanto all'altro con un atteggiamento fiducioso questa è l'alleanza terapeutica il contatto si fa sempre più intimo e profondo le difese si sciolgono il bello si affianca al terribile gli opposti abbiamo detto che convergono e quindi c'è paura e gioia al tempo stesso per l'io questo è una sorta di incubo ma finalmente possiamo leggerci dentro stiamo imparando a decifrare noi stessi in questa vulnerabilità dell'io qui sta l'opportunità di comprensione in questa fase il paziente scopre il coraggio osa fare ciò che prima evitava e il terapeuta diventa il perno intorno al quale gira la sua esistenza è un desiderio che consegna la persona nelle mani di un altro perché senza l'altro la vita perderebbe di significato così incontro dopo incontro il terapeuta riporta il paziente nei luoghi della memoria in una sorta di viaggio nel tempo tra immagini senza tempo c'è la promessa di una rinascita ma come sempre accade insieme alla nascita c'è anche il fantasma della morte e della distruzione nell'inconscio non c'è contrapposizione tra il bene e il male tutto converge e si confonde così succede che il terapeuta salvatore sia anche il persecutore un assassino come accade in certi sogni impossibili ad un certo punto come dicevo il paziente si scopre coraggioso alza la testa e una nuova speranza traspare dal suo incedere sicuro siamo in un sogno il rischio è che usciti da questo sogno magico tutto sembri diverso allora bisogna accogliere il sentimento che unisce paziente terapeuta per viverlo su questo piano simbolico la seduzione è ancora impalpabile non si vede mai all'opera come una trama sottile che avvolge morbidamente i due protagonisti ciascuno ancora crede di poter dirigere il gioco e di poterlo fermare se dovesse diventare pericoloso il rischio sembra calcolato a patto che il terapeuta sappia cogliere un aspetto illusorio dunque i due entrano in un sogno lasciandosi trasportare dai sentimenti che ora sono dolci e ora sono disperati tra l'inquietudine e i vissuti di abbandono in un sogno dove il paziente può confessare a se stesso tutto ciò che da sveglio non osa ammettere emerge la vita affettiva in tutta la sua violenza e il paesaggio interiore si anima di fantasmi qui i confini del rapporto psicoterapico si fanno sottili e il confine tra sogno e realtà rischia di svanire la confessione del paziente si fa carica di paura a volte è vissuta con imbarazzo le emozioni sono diventate intense e travolgenti in questo momento il legame terapeutico deve assolutamente reggere perché siamo di fronte a qualcosa di oscuro e di terribile ma anche di affascinante e di luminoso questo è il momento dell'abbandono ecco il dono il silenzio si fa gravido di immagini i frammenti dell'anima danzano grazie ad un dinamismo psichico nuovo che dà voce alla rabbia e alle lacrime soffocate da sempre se il sogno non sconfina nella reale questo è il momento più fertile del percorso psicoterapico un dolore crudele che lacera il petto inizia a sgorgare e diventa comunicativo attraverso simboli che non sono mai apparsi e che parlano di un attraversamento di confini o di metafore di nutrimento se tutto ciò avviene all'interno dell'orizzonte simbolico allora l'istinto creativo si risveglia nel paziente e l'assalto di emozioni viene convogliato nella direzione di un nuovo progetto esistenziale le cadute non mancano del resto si nasce dalle proprie generi qui la posta in gioco è la vita e la vita è fatta di nascite e di morti in una successione senza fine se il legame affettivo tra paziente e terapeuta resta nell'ordine del simbolico diventa allora un legame capace di fecondare l'angoscia e non solo diventa un legame capace di erotizzare la vita come si affronta la vita questa è una domanda che va lasciata aperta però se dovessi tentare una risposta direi che si affronta emozionandosi così come il deserto si affronta cantando bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete oltre 300 video come questo che avete appena visto sui vari argomenti di psicologia dalla dipendenza affettiva al narcisismo alla psicoterapia ai casi clinici potete scegliere su questo vasto materiale a vostra disposizione in bocca al lupo e a presto arrivederci